ti ho detto che c'è già giras, vai Simone, Simone è il terzo, no Magnetti Ale Fabri, Ale Fabri, dai, dai, Alessimo dai, Simone, vai, Andre, guarda vai, Nico ho Vittorio, e allora, in pena un po', va bene, è un po' dietro, hai Vito brava è morto andiamo un po' dietro, qua arriva, c'è già fiatone, c'è già lì che non va avanti ecco, l'agilissimo dai Ale, Ale, dai, 100 metri, dai, dai vuoi ascutta? vuoi ascutta? no così che l'ho fatta incazzare va di più grazie